Svelato il cammino, ecco anche le divise che accompagneranno il Lecce nel prossimo campionato, esattamente quelle che vi avevamo anticipato più di un mese fa. La prima, giallorossa, torna ad avere le bande verticali dritte. Sulla seconda, bianca, e la terza, nera, spicca la rosa dei venti, con i punti cardinali di sud-est evidenziati in giallorosso. Un chiaro richiamo al territorio, per divise non standardizzate e disegnate dalla società leccese. Cambia anche l'organizzazione del retro, così come il font, più boldato. Il risultato visivo è ottimale, con nomi in corsivo e numeri più visibili. C'è un'altra novità, la comparsa a piede il numero del logo del Lecce. L'amministratore delegato Cipollini ed il segretario Starace hanno illustrato poi la nuova campagna abbonamenti, con lo slogan Pronti alla sfida, sostieni i tuoi colori. I prezzi, in tutto e per tutto, comprese le promozioni famiglia, sono quelli della scorsa stagione. La società giallorossa si colloca così negli ultimi posti per quel che riguarda il prezzo singolo di ogni partita per l'abbonato. Una delle novità riguarda i vecchi abbonati con tessera del tifoso, che vedranno caricati digitalmente file e posto sulla propria tessera. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dal 1 al 6 agosto, presso tutti i punti autorizzati, oltre al punto speciale rappresentato da Salento giallorosso. Una campagna abbonamenti dilatata nel tempo, visto l'esordio caselingo a settembre con l'Udinese. Ci sarà tempo fino alla vigilia della gara con i friulani, fino cioè al 10 settembre per sottoscrivere l'abbonamento. Mentre Giacomazzi e compagni agli ordini di Eusebio Di Francesco lavorano a Tarvisio, Cipollini chiede ai tifosi e a tutte le componenti la fiducia necessaria per vincere questa sfida. Sto cercando di operare insieme a tutte le altre componenti affinché la fede sia generale, perché tutte le componenti della società lavorano in funzione di un obiettivo comune, che è quello della squadra che va in campo, che cerca di fare risultato affinché si raggiunga il risultato che ci sia sempre fissi. Poi non può essere una fede parziale, voglio dire.